La squadra mobile di Reggio Calabria ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di otto persone, alcune già detenute, accusate di avere favorito la latitanza del boss dell'Andrangheta Domenico Crea, capo dell'omonima Cosca di Rizziconi. Il provvedimento è stato emesso dal GIP distrettuale Regino su richiesta della DDA. I reati contestati agli arrestati sono associazione per delinquere di stampo mafioso, favoreggiamento personale, procurata in osservanza della pena. Per quest'ultimo reato e per favoreggiamento personale sono indagate altre sette persone.